Oggi vi parlo di intelligenza artificiale generativa. Se sono un bravo fotografo non devo assolutamente utilizzarla. Se sono un bravo fotografo devo trarne tutti i vantaggi possibili. Oggi andrò a mostrarvi la mia esperienza in questo settore e vi dirò anche quello che ne penso. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e di immagine in generale. Come qualcuno di voi saprà, io ho un po' osteggiato l'entrata a piede teso delle intelligenze artificiali generative perché le reputo delle tecnologie che vanno a generare dei pezzi di immagine che non abbiamo creato noi. Quindi a tutti gli effetti sono delle immagini non nostre di cui molto probabilmente non abbiamo nemmeno i diritti e di questo parleremo più avanti. Sul piano anche puramente etico si tratta di fotografie con qualcosa di finto quindi non rappresentano accuratamente la scena e vedremo perché questo può essere un problema anche e soprattutto per chi ci lavora. Nel corso di questo video però vi mostrerò che io stesso ho utilizzato queste tecnologie per un scopo ben preciso. Andremo a vedere insieme quale, andremo a vedere quale è stato il risultato e vi dirò alla fine se la reputo una cosa vantaggiosa e se la rifarò. Per cui vi consiglio di seguire questo contenuto fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vedo che un buon 60% di chi segue i miei contenuti continua a non essere iscritto al canale e questo sicuramente è un peccato. Benissimo ma comincio subito col dirvi come mai ho utilizzato l'intelligenza artificiale generativa in particolare ho utilizzato quella di Photoshop. Mi sono recato a fare uno shooting al termine del quale il cliente ci ha detto ci servono le foto per i formati social. Formati social che non esistono nella macchina fotografica quindi il formato story, quindi il 1080x1920, la storia verticale, fotograficamente non esiste. Parimenti il formato 4 quinti, il formato verticale, le foto verticali di Instagram anche quello è un formato che non esiste. Tutte le mie foto sono state scattate in tre mezzi o due terzi formato standard del mio sensore. Per cui mi trovo a dover fare una conversione. Ecco che cosa mi ritrovo davanti nel momento in cui devo mettere per esempio in verticale una storia e vado a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa vedete quello che sto facendo è che sto cercando di ricostruire la parte che mi manca perché questa foto addirittura è stata scattata in orizzontale. Nel momento in cui ecco vedete l'intelligenza artificiale mi restituisce tre opzioni io vado a scegliere quella che mi sembra più coerente in questo caso credo che sia questa che mi ha creato questa parte che prima non esisteva dopodiché posso andare a salvare il mio formato story e vado a salvarla e consegnarla al cliente come avrei fatto con una fotografia normale. Tutto questo capite bene che si poteva fare anche senza l'intelligenza artificiale generativa io avrei potuto ricostruire tutte quelle parti clonando da altri pezzi o da altre foto quindi si poteva fare lo stesso. L'intelligenza artificiale generativa di Photoshop lo rende molto più rapido e mi mette in condizione di farlo in maniera molto precisa molto coerente perché non si è limitata a ricreare delle parti è anche andata a matcharmi luci e colori e addirittura è andata a matchare la profondità di campo quindi lo sfocato della mia fotocamera andando probabilmente a leggere un mix tra metadati della foto quindi distanza di messa a fuoco, distanza dal soggetto e la nitidezza, il contrasto, il micro contrasto presente in certe zone dell'immagine ed è andata a ricreare esattamente quello che mi serviva è una cosa chiaramente senza precedenti che mi mette in grado di fare una bella operazione fare bella figura col mio cliente che mi ha chiesto una roba non impossibile però fastidiosa perché le foto sono state scattate in un certo modo e di solito uno dice va bene se abbiamo scattato le foto in un certo modo le useremo in un certo modo invece no adesso i clienti si aspettano che con tutte le foto si possa fare tutto il cliente non ci pensa che una foto scattata in verticale probabilmente in orizzontale non andrà bene così come non pensa che una foto scattata in orizzontale probabilmente non è il massimo per ricavare una story fino a oggi questa è stata una somma difficoltà adesso andremo a vedere se con questa nuova tecnologia ormai c'è da un po' ma io sto cominciando a usarla adesso andremo a vedere se questa nuova tecnologia ci salva nella maggior parte dei casi molto bene andiamo a vedere questo nuovo esempio e come potete vedere è una foto scattata in verticale quindi per certi versi siamo già avvantaggiati nel momento in cui dobbiamo andare a ritagliarla per creare il nostro formato finale andiamo a prendere il nostro strumento taglierina e andiamo a impostare un 16 noni ecco in questo caso è verticale per cui viene fuori una cosa del genere in questo caso io posso andare a fare un ritaglio e come potete vedere sono stato fortunato perché il mio soggetto ci sta dentro giusto e quindi non ho bisogno di generare niente sono stato fortunato in questo caso posso andare a salvare come jpeg la mia storia e in questo caso sono a posto me la sono sfangata così che cosa succede però se devo salvare altri formati come potrebbe essere per esempio il 4 quinti andiamo a vedere un 4 quinti e vedete che in questo caso non ci sta dentro per intero il mio soggetto ovunque io la metta non ci sta per cui adesso la posiziono come meglio credo dopodiché imposto la generazione delle parti mancanti lui ci metterà un po' e il motivo per cui ci mette un po' è che sta andando a pescare probabilmente su Adobe Stock la piattaforma di stock dedicata di Adobe sta andando a pescare delle foto di altri che hanno dato il consenso per generare le parti mancanti con un sistema che per carità funziona benissimo e guardate mi restituisce tre opzioni quindi io qui posso andare a scegliere tre opzioni andare a beccare quella che mi piace di più quella che mi sembra più coerente e sta a noi ovviamente scegliere la migliore in questo caso c'ho il dubbio c'ho il dubbio perché non mi ricordo com'era veramente lo sfondo credo che questa potrebbe andare bene quindi io vado a fonderla e a questo punto vedete che è diventata un'immagine unica le parti che abbiamo ricostruito sono queste quindi vedete che ci sono proprio dei pezzi che sono stati creati dal niente creati dal niente il cavolo sono stati creati da immagini di altri questa cosa io la so adesso vado a salvare la mia immagine e sono pronto a consegnarla al cliente quindi in questo caso mi ha salvato andiamo a vedere vedete che guardandola così se me la mostrassero sì ho visto un indizio che potrebbe smascherarla però è difficile rendersi conto se sia stata usata questa tecnica oppure no guardando l'immagine salvo aver fatto delle selezioni assurde però con una selezione blanda come questa è veramente difficile capire se è stata usata un sistema di generazione come questo oppure no andiamo a vedere un altro caso e vediamo che qui nuovamente andiamo a impostare il nostro formato story forse che siamo fortunati di nuovo no però io voglio farlo lavorare quindi sapete adesso che cosa facciamo lo costringiamo a creare qualcosa anche se non sarebbe servito andiamo a vedere come si comporta stiamo facendo delle generazioni piccole stiamo rigenerando un pochettino i bordi ovviamente se andassimo a fare delle selezioni più ampie potrebbe trovare maggiore difficoltà e dare dei risultati peggiori questo va detto vediamo un po' i risultati che ci ha dato e vabbè questo probabilmente era facile questo era facile da fare anche senza la generativa anche semplicemente col timbro clone si faceva in un attimo una cosa del genere però devo dire ci ha messo quello che ci ha messo ma ha lavorato lui al posto mio quindi qui la cosa bella se vogliamo è che io posso dire al computer fallo tu e non devo più stare io lì a pennellare andiamo a scegliere un altro formato perché noi adesso non ci accontentiamo della storia verticale ovviamente ma andiamo a fare anche il 4 quinti andiamo a vedere forse in questo caso ce la caviamo così perché qua effettivamente non c'è proprio bisogno di fare altro quindi in questo caso ce la siamo cavata così e va benissimo così nuovo caso andiamo a vedere un'altra foto sempre del medesimo shooting ovviamente è sempre in tre mezzi due terzi quello che volete quindi andiamo a vedere come si comporta se andiamo a ritagliare la story ecco qui vedete che le sto tagliando un pezzo di braccio non è proprio il massimo quindi vado ad allargare un pochino sopra e sotto andiamo a fare una cosa del genere lo sto facendo volutamente un po' un po' invasivo come intervento apposta per farvi vedere bastava molto meno era sufficiente non tagliarle il gomito e andava già bene così però in questo caso andiamo a vedere come si comporta se deve ricostruire tutte queste parti gli abbiamo anche detto di fare due cose insieme questa brutta questa non mi piace ecco sicuramente sceglierò questa perché mi sembra la più coerente cioè lo vedete anche voi che le altre due non erano proprio il massimo può non essere meravigliosa questa ricostruzione ha un po' inventato un po' tanto e qui effettivamente si vede però secondo me va bene nel senso che se la fai vedere a un osservatore che non sa come è stata trattata secondo me non se ne accorge perché tu la guardi così il tuo occhio va altrove e adesso andiamo a prendere il secondo formato vediamo un po' qui forse ce la caviamo più facilmente perché qui le zone da recuperare sono solamente i bordi quindi andiamo a vedere come se la cava con un recupero di questo tipo vediamo cosa mi genera ricordiamoci sempre che ci sono delle difficoltà anche a livello lavorativo quando facciamo questa operazione perché andare a fare una generazione di questo tipo significa che l'immagine riceve dei marcatori nei metadati che ci dicono che è stata usata l'intelligenza artificiale generativa quindi questa foto non può essere usata per un reportage fotogiornalistico non può essere usata da vendere sulle piattaforme di microstock non può essere usata per una infinità di scopi perché è stata usata l'intelligenza artificiale e anche se l'intervento è minimo anche se abbiamo solamente rimosso un brufolo con l'intelligenza artificiale comunque nell'immagine ci sono i metadati che dicono che è stata usata l'intelligenza artificiale voi dite rimuoviamo i metadati e la carichiamo lo stesso certo però è un rischio perché se vi beccano avete imbrogliato e l'avete fatto consapevolmente quindi io sconsiglio questa pratica è molto meglio sapere che quando facciamo un'operazione di questo tipo siamo a rischio per certe applicazioni non possiamo usare questa foto per tutto quello che ci viene in mente perché quando è stata utilizzata una generazione di fatto l'immagine non è più nostra ci sono dentro pezzi di immagini di altri e quindi i social va bene sui social la possiamo usare la possiamo usare per le campagne per le sponsorizzate queste immagini verranno usate anche per delle campagne forse però non possiamo usarle per tutto quello che ci passa per la mente perché molte cose sono vietate andiamo a vedere un altro caso come potete vedere qui abbiamo un'altra foto andiamo a fare le stesse cose quindi andiamo a prendere i nostri formati partiamo con questo sì dai partiamo con questo qui probabilmente come già visto in precedenza è più facile perché dobbiamo recuperare solamente i bordi esterni e qui sappiamo già che quando io gli dico genera sicuramente se la cava bene starà andando a sfrucugliare Adobe Stock per cercare delle immagini di roba sfocata da mettere sullo sfondo probabilmente rileva addirittura i metadati della mia foto e quindi sa che io ho scattato con un 85 mm e magari sta andando a prendere delle foto fatte con un 85 mm in modo che la prospettiva sia coerente andiamo a vedere queste opzioni cioè vedete che è sbalorditivo io rimango sono il primo a rimanere a bocca aperta non mi piace questa tecnologia non eticamente non mi piace però se mi facessero vedere questa immagine io probabilmente non lo capirei sì c'è un po' di riga qua diciamo che se lo sai puoi capirlo ma se non lo sai non te ne accorgi e questo è bestiale vuol dire che noi veramente possiamo andare a ricavare dettagli dalle nostre foto che prima non c'erano andiamo a vedere come si comporta se andiamo a fare la story quindi mettiamo il nostro formato verticale andiamo a vedere se riusciamo a beccarla per inter... eh cavolo e qui non c'è bisogno in realtà andiamo a vedere di fare lo stesso qualcosa giusto per ma la verità è che non c'è bisogno perché ci stava già vediamo come se la cava con un recupero di questo tipo ci mette un po' eh questo è un contro che vi segnalo ci mette anche con un computer potente ci mette un po' a fare questa operazione però il discorso ragazzi qual è? ci mette di meno di quello che ci metterei io per farlo a mano quindi se io mi mettessi lì col timbro clone ci metterei di più e andiamo a salvare e questo ci ha messo di meno capito? ci ha messo di meno di quello che ci avrei messo io e questo significa due cose la prima cosa è che finisco prima la seconda cosa è che lanciata l'operazione posso fare un'altra cosa a me capita spesso di leggere io magari mi tengo un libro in mano lancio il procedimento leggo quattro righe poi torno al computer lancio un altro procedimento leggo altre dieci righe così sto facendo due cose insieme sono contrario al multitasking però in questo caso mi fa gioco andiamo a vedere l'ultimo esempio che vi porto oggi non ultimo perché ci siano cose diverse sono semplicemente tentativi fatti sullo stesso shooting in questo caso qui è veramente inutile andare a generare qualcosa qui la storia c'è già e quindi è inutile fare i galli questa qui possiamo andare a salvarla direttamente questo è un contesto in cui ci si può trovare molto spesso perché capita spessissimo ormai che il cliente non abbia dimestichezza coi formati capita spessissimo che andiamo a vedere come si comporta quando dobbiamo fare un 4 quinti almeno a me capita spessissimo che il cliente faccia delle richieste dal punto di vista dei formati assurde insensate del tipo una fotografia panoramica è ricavami una storia però non voglio che la scena venga tagliata ma come faccio a fare una roba del genere è impossibile in questo caso in questo caso si riesce anche perché lo sfondo è molto sfocato quindi in questo caso siamo fortunati ed è anche il motivo per cui vi porto questo esempio perché è più facile vedete che è facile generare uno sfondo di questo tipo sfocato che comunque si vede non si vede facile tra virgolette nel senso che lo sta facendo la macchina ci hanno lavorato i migliori ingegneri quindi è una roba difficile che ci sono voluti anni per implementare io non sono nessuno per dire che è una cosa facile però il risultato è molto buono quello che voglio dire è che se fosse una scena più complicata con tutto a fuoco sarebbe molto più difficile generare dei risultati coerenti quindi bisogna anche capire quando usarla questa tecnologia e quando no in questo caso secondo me la cosa giusta era usarla semplicemente per fare contento il cliente ha shooting terminato capito io una volta che ho finito lo shooting non sono più sul posto non posso più rifargliele ho lavorato di fretta ho fatto sia foto che video nello stesso giorno di fronte a una richiesta come questa mi sento di dire utilizzo questo trucco per portarmi a casa il risultato e non dover tornare a rifare le foto tra l'altro foto impossibili da rifare perché le influencer che hanno partecipato non vengono una seconda volta non gratis quantomeno quindi era assolutamente vitale riuscire ad accontentare il cliente su questo aspetto bene amici a questo punto io vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa tecnologia la state già usando non la userete mai non vi piace fatemi sapere tutto nei commenti ne parleremo come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale perché spesso io rispondo alle domande più interessanti con degli shorts verticali è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi tuo appuntamento al prossimo video aspetto